Da Achilli notteca al Parlamento gli auguri di Natale di Gianluca Bizzol ma soprattutto di una grande azienda in terra di Valdobbiadene. Gianluca, ben trovato, intanto diamo il senso di questa serata. Grazie, grazie Camilla, è una serata che celebra una serie di successi ultimi, anche degli ultimi giorni, che vede il Prosecco di Valdobbiadene e la mia famiglia che nella zona di Valdobbiadene è una famiglia di viticoltori da 21 generazioni, quindi dal 1542, che vede premiati i propri sforzi nella vigna, abbiamo 20 poderi nelle colline più ripide e più alte della zona di Valdobbiadene e proprio in queste colline riusciamo a dare quell'espressione più qualitativa che può avere il Prosecco di Valdobbiadene e in particolare il Cartizze che è considerata la più bella, la più importante collina della zona del Prosecco. Sai che ogni 450 bottiglie di Prosecco solo una può essere di Cartizze. Esatto, esatto, esatto. E lo diciamo ai nostri utenti perché noi su Liberi TV facciamo eccellenza, quindi interviste di eccellenza con un produttore come te che ha veramente una grande famiglia alle spalle ma che nella tradizione ha portato anche dell'innovazione. E a proposito di innovazione, qualcuno qualche anno fa, non troppo lontano, aveva parlato di una soglia. Un giorno ci sarebbe stato un prodotto italiano che avrebbe venduto più di un altro prodotto francese. Me la racconti questa storia? Perché secondo me tu ne sai qualcosa. Era il 2006, eravamo proprio a Roma e quando raccontando quelli che erano una serie di successi nei mercati sia nazionale che europeo, qualcuno mi chiese ma dove arriverà questo Prosecco di Valdobbiadene? Io ho detto beh, se facciamo la curva predittiva come si fanno in altri settori, guardiamo quello che è stato il trend di crescita degli ultimi dieci anni e proviamo a proiettarlo, mi sbilancierei a dire che entro il 2020 supererà le vendite dello champagne. Detto nel 2006 sembrava una bestemmia, tutti mi hanno detto ma cosa stai dicendo? State vendendo poco più di 50 milioni di bottiglie contro i 340 milioni di bottiglie dello champagne e quindi è ben lungo questo traguardo. Invece, inspiegabilmente, con ben sette anni di anticipo la previsione si è avverrata e nel 2013 il Prosecco di Valdobbiadene insieme al suo Prosecco Doc ha superato lo champagne e quest'anno si presta addirittura, si avvicina ormai a una soglia di una volta e mezza le vendite dello champagne. E questo ci riempie di orgoglio naturalmente come italiani. Senti Gianluca, a proposito di storia, qui abbiamo veramente un pezzo della storia dell'azienda, della famiglia, raccontiamo questa bottiglia. Questo è un Baltazar, ogni bottiglia gigante ha un suo nome, la 3 litri si chiama Geroboam, la 4 litri e mezzo Reoboam, la 6 litri Matusalem e così via. E questa è la Baltazar che sono 12 litri, in questo caso un metodo classico, quindi una seconda fermentazione in bottiglia che dura degli anni e in questo caso una bottiglia di vendemmia 25 anni fa è una cosa da aprire in un'occasione speciale, in un'occasione d'oro. E quindi potrebbe essere magari la bottiglia di aprire il prossimo Viniteri che compie 50 anni. Bravissimo! Esatto, quindi l'occasione d'oro per aprire una bottiglia così importante. Senti, allora chiudiamo invece questo breve ma intenso excursus che abbiamo fatto per conoscere ancora più da vicino la tua azienda. E diciamo, restando nel solco dell'innovazione, come la Bisol con il suo magnifico prodotto guarda al futuro? Quindi quali traguardi ti sei prefisso? Perché so che tu nutri sempre delle ambizioni sane, mi piace dire questo. E quindi i tuoi prossimi traguardi, dove hai puntato? Beh, intanto abbiamo la fortuna di avere un biglietto da visita eccezionale nel mondo che è il Prosecco di Valdobiadene e la mia famiglia poi ha fatto anche altri investimenti. Abbiamo ritrovato un antico vitigno veneziano in un'isola a Venezia, c'è Benissa, che è un luogo che ti avvolge in esperienze intorno al mondo del vino e del cibo. Un ristorante che ha preso la Stella Michelin, l'unico ristorante italiano che ha una Stella Michelin con quattro chef, otto mani insieme che lavorano. E poi nei Colli Ugani, dove abbiamo investito in un'azienda di una bravissima produttrice, una donna che ha saputo portare il suo moscato giallo alla medaglia d'oro a Londra in un ambito talmente esclusivo che era quasi impensabile. E con Valdobiadene, che con il suo Prosecco e il Cartizze alieta tutte le tavole del mondo, possiamo arrivare poi a Cortina d'Ampezzo, dove abbiamo un piccolissimo vigneto, ma che è il più alto vigneto d'Europa, a 1382 metri. Quindi nella stessa regione è un'esperienza a quattro livelli, partendo da Venezia e arrivando nelle Dolomiti. Quindi credo che la prossima tappa sia quella di saper accogliere i wine lovers di tutto il mondo e saperli accompagnare in un percorso che vede una regione come il Veneto, che ha due splendide perle come Venezia e Cortina e saperli accompagnare nel mondo del vino, ma in modo anche leggero, piacevole e esperienziale. Vino, cibo, cultura e paesaggi. Credo che sia il nostro dovere come produttori di vino, essendo radicati nei territori, accompagnare per mano chi ama il vino, chi ama la qualità della vita che attraverso questi piaceri, penso, arrivi all'apice. E questa è proprio la cosa bella, la cosa bella di questi produttori che riescono a credere nel loro territorio, a portarlo avanti, a far sentire il turista, non troppo turista, farlo sentire a casa e questo è bellissimo. Gianluca, i tuoi personali auguri ai nostri utenti, i tuoi personali. Auguri di buon Natale, che sia un augurio di un Natale sereno, insieme alle persone più care, con un bel piatto di cibo italiano accompagnato da un grande vino italiano e con l'orgoglio di poter dire siamo italiani, abbiamo le cose più belle del mondo e le apprezziamo e le apprezziamo e le facciamo apprezzare agli altri amici che si abbinano alla nostra tavola. Grazie a tutti. Grazie a tutti.